Il rally ti mette molta adrenalina, come te lo mette la moto da cross, quando ti siete in macchina e mancano pochi secondi alla partenza, l'adrenalina c'è tanta, quindi sicuramente scadena in te tante cose, molto simile al cross. Mi piace molto il rally, è la mia seconda passione dopo la moto da cross, ho fatto soltanto pochissime apparizioni, mai nei rally veri e propri, quindi ho molta esperienza da fare ancora e ho molto strada da percorrere sicuramente. Grazie a tutti!